Domani Molisane in campo per la quarta giornata del campionato cadetto di Futsal. Sabato scorso nessun acuto delle nostre rappresentanti, unico punto portato a casa dall'Isernia a Salerno. Un pareggio comunque deludente e due sconfitte per le campo bassane. La win in casa contro la polisportiva Eboli, la Chaminade sul difficilissimo campo di Rutigliano. Domani pomeriggio di nuovo in campo con l'auspicio di vivere una giornata positiva a 360 gradi. Chiamata la vittoria, l'Isernia calcio a 5, che non può fallire il bersaglio pieno contro la Virtus Palombara. Dopo la vittoria nel derby contro la win all'esordio, gli uomini di Cataneo hanno deluso le attese, prima con una sconfitta eterna e poi con lo scialbo pareggio di Salerno. Le ambizioni di vittoria dei Bianco Celesti passano da un'importante continuità, in particolare dal palazzetto di casa dove sono vietati altri passi falsi. Il campionato comunque sta vivendo un sostanziale equilibrio. Nessuna squadra ha vinto tutte e tre le gare, a dimostrazione di un dispiegamento di forze livellato. Il che non è male per l'Isernia, a patto di non incorrere in altre battute d'arresto. Settimana intensa per la win Campobasso. I ragazzi di San Gennario hanno sfiorato i primi punti stagionali sabato scorso. Una gara equilibrata contro la polisportiva Eboli. Poteva arrivare anche il risultato pieno, ma nel finale l'esperienza dei campani ha fatto la differenza. I campobassani sono costretti ad offrire ancora di più rispetto alle passate stagioni. L'obiettivo, salvezza, è difficile ma non impossibile. Bisogna evitare al massimo gli errori per portare le gare al traguardo finale. Domani trasferta nel napoletano contro il città di Carnevale Saviano. I campani hanno un punto, mentre i molisani, unici a zero, possiamo quindi parlare di un vero e proprio scontro diretto. Obiettivo per Melfi e compagni, muovere la classifica anche per una questione di morale. Nel girone F alla palestra Sturzo, la Chaminade ospita il Canosa. Archiviata la sconfitta di Rutigliano, gara decisamente non alla portata dei ragazzi di Pizzuto, la Chaminade vuole la prima vittoria in campionato. Canosa a quota 6, squadra sicuramente di buon livello. Avversario scomodo, forte, ma non impossibile. Nel raggruppamento pugliese sono ben 4 le squadre ancora a zero punti. Un dato che lascia sicuramente ben sperare per l'obiettivo salvezza dei bianco-azzurri.